Siamo con il sindaco di San Michele al Tagliamento per un bilancio di quella che è stata la stagione estiva appena conclusa, una stagione che sappiamo che ha avuto ottimi risultati, risultati di eccellenza sia per quanto riguarda gli eventi proposti da parte dell'amministrazione ma soprattutto per quanto riguarda le presenze. Però si parla anche di altra stagione. Sì, preciso la stagione è stata positiva, non eccellente perché abbiamo perso un pezzo di questa stagione all'inizio, soprattutto giugno, però credo che poi dopo abbiamo ampiamente recuperato, anche se i dati ufficiali da parte della regione per quanto riguarda le presenze ancora non ce li abbiamo. Certamente noi ci stiamo strutturando sia con le aziende sia con gli investimenti sulla parte delle opere pubbliche, che ci stiamo attrezzando per allungare il più possibile questa stagione. Sul nostro territorio in questo momento sono avviati i cantieri per la pista ciclabile lungo il mare, per l'interconnessione delle piste ciclabile di Bibione con l'entroterra, quindi con il sottopasso a Bevazzana e a breve partiremo con i lavori di ristituzione del faro. Allora, cosa c'entra questo con l'altra stagione? C'entra perché Bibione si sta caratterizzando come città sostenibile, come città dove finalmente puoi prendere la bicicletta e girare l'intera città in assoluta sicurezza. Non abbiamo ancora finito tutto ma ci stiamo attrezzando velocemente per questo e far scoprire quell'entroterra di cui spesso si parla e magari non si fa molto per creare le condizioni per visitarlo. Per fortuna abbiamo un gruppo di aziende che ci crede e altre stanno chiedendo di entrare per offrire il prodotto tipico piuttosto che un servizio, piuttosto che l'alloggio in strutture tipiche. Noi ci crediamo tanto, siamo riusciti già quest'anno a allungare, a dilatare un po' il periodo di visitazione del nostro territorio, faremo ancora di più. Dobbiamo investire tanto ma non solo in termini di investimenti propri di opere pubbliche ma anche in termini di idee, di progettualità, di strategia. Ad esempio le due giornate che abbiamo dedicato ai Vancic, premio Nobel per la ritteratura, stanno avendo un bel effetto. Adesso inaugureremo a breve anche i fortini che sono lungo gli argini, la Villa dei Buoi avrà un nuovo vestito, verrà vissuta anche il parco dietro eccetera. Ebbene, mettendo insieme anche attraverso persone esperte queste, chiamiamole tra virgolette, gioielline che abbiamo, vogliamo offrire davvero l'occasione di visitare un'altra terra in quella che io ho definito ormai da tempo. Vedo che anche lei ne ha fatto la domanda non a caso l'altra stagione. Perché deve essere davvero un'altra stagione? Un'altra stagione che approfitta in maniera benevola dei tanti turisti che abbiamo per dire attenzione c'è dell'altro in altri mesi. Questa è un po' la sintesi. Quindi potremmo dire un bibione da vivere tutti i giorni dell'anno? Un bibione ma non solo. Come coordinamento dei sindesi della Costa Veneto mi permetto di dire che anche gli altri si stanno trezzando. Voglio davvero dirlo. Non so, i fortini di Cavalino Treporti che hanno avuto anche, si sta davvero parlando tanto, ci sono fortissimi i vestimenti e saranno questi. gli sforzi che sta facendo Jesolo e Eraclea, ma anche Chioggia, il collega di Chioggia che si sta veramente con noi anche organizzando per... Abbiamo tanto, rendiamocene conto e agiamo di conseguenza. Questo è lo spirito, in sostanza.